bella tutti ragazzi sono capiti benissimo qui non potremmo essere informatico di Fortnite secondo me secondo me ma ti dicono che non mi non gioca la Fortnite perché si vengono ma si vuole essere un canale solide o se ricordo è una cosa più utile ma ma tanto di Fortnite ci sono gente che vuole giocare di Fortnite solo perché non è però è proprio che mi sono mai visto il tuo bambino il mio dimentico per stare è un po' tutto poi deve essere così attacca ci sono tanto giocosti come il suro bloc non è che sia come il suro bloc non è che sia come il suro bloc ma tanto e tanto tanto così non è non è che trobo tutto è stato no Si è tremenda qui, ma volete vedere proprio se si è meglio molto potente. Se si guarda che l'arrabia si vuole a uccidere, se si vuole a uccidere è proprio così. Anche se mi sono attaccate, ho iniziato ad attaccare. E poi farà anche l'arrabia, le uccidere sono molte... Il genere che tirerà dei scremi foici, così... ...il gioco qua. Ma non è proprio l'arrabia, è un problema. Ho trovato un lag. Diciamo se c'è l'attaccato. E' così, ragazzi. Mannaggia. Mannaggia. In altro modo, un po' più, ragazzi, è un po' forte. Ma è un po' più, ragazzi. Pieno di tante l'ombra, più di tanti lombra, più di tanti lombra, più di tanti lombra, più di tanti lombra. Non vedo così, non so se non vedo niente, non so se non capite qua sotto. Non voglio un'arma, non voglio questo. Un po' raggio. E vabbè, tanto sfogliate, fate sempre attenzione. Soprattutto, proprio... 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 Giocato in comodazione, davvero, fatta la questione a chiedere che mi risulterà. Risulterà, come capato, una madre spastica, distinta le spastiche, capito qua. Ho risultato un giocatore, mi sembra di dipendere. Dipendere, mi sono messo all'assimilamento del video gioco, che è impossibile, giustamente. E dipendere l'ambito e l'acqua. Utilizzare il Pakadot. Un gliciamo gioco. Un cilindro per salire. Adesso, sono preso proprio qui... Poi dove? Sono preso questa cosa. Ma... Ma mia cosa roba... Ma.. Ma posso... c'è un gioco e mi si fa un lago di amadona Non sono troppo ragazzi sono tu ragazzi e vabbè come vedete qua si vedrebbe di come si è detto poi scelite fuori e poi guarda di andare a te guardate questo è proprio io non sto fanno più riuscito quindi proprio fortnite è proprio questo è proprio gente che è quella che poi è retente e poi c'è gente che praticamente li ammassa quindi vediamo qua di qui qua che è ammazzato guarda 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 guarda